Molte persone cercano rimedi alternativi anche da noi erboristi, tra i quali la prevenzione sia delle influenze che del raffreddore e la cura naturalmente, altrimenti incorriamo anche in termini di ricce, con gli integratori alimentari, che danno comunque buoni risultati per queste affezioni invernali, tra le quali noi cominciamo a dire la propoli che è una resina delle ape con cui gli antichi egizi mummificavano e che si è scoperta un antibiotico naturale con cui sia curare che dare sollievo come prevenzione a queste affezioni invernali. Prevenzione che è alternativa soprattutto per i bambini e gli anziani che sono i più soggetti a queste affezioni da freddo. Insieme ad esse possiamo annoverare sicuramente e con la propoli l'echinacea che è un antibiotico naturale col salice che è anche l'aspirina al naturale, soltanto che invece di essere acido salicilico è acido salicilico che è meno nocivo per la mucosa gastrica. La tosse che è una delle cose più scoccianti insomma dell'influenza, come si può lenire con le erbe? La tosse ci sono sia delle tisane a base di eucalipto, grindelia ed altre cose che degli ottimi sciroppi le cui formulazioni vanno nella direzione di lenire e addirittura curarla proprio poi alla fine perché contengono degli elementi che diciamo influiscono positivamente per questa affezione del bronchiale. E poi c'è il mal di gola che pure insomma da parecchio fastidio evita insomma non permette di parlare quindi ha un dolore abbastanza forte cosa si può prendere per il mal di gola? Per il mal di gola veramente io in genere consiglio sia la propoli assunta come soluzione idroalcolica che come spray orale perché oltre alla propoli c'è anche qualche cosa che diciamo lenisce proprio il dolore, il fastidioso dolore. Poi naturalmente ci sono questi abbassamenti di voci che non sono dovuti a diciamo a tonsilliti o a renciti e comagni è bello nei quali che si può curare con l'erissimo e anche l'erba dei cantanti che usano molti cantanti, molte di quelle... Infatti è famosa, si fanno dei decotti? Si fanno dei decotti, degli sciacqui e degli spray proprio per allenire l'abbassamento di voce. Durante l'estate io ho molte persone che cantano nei piano a bar che vengono a prendere queste cose con ottimi risultati diciamo.